Non si placa la bufera attorno a Banche Truria e dopo le ultime notizie riportate dalla stampa nei giorni scorsi, la FIRST CISL ha sentito la necessità di far chiarezza su alcuni aspetti, partendo proprio dalla difesa dei direttori di filiale e degli operatori sottoposti ad indagine. Una decina a quelli seguiti dalla CISL, sottolineando la loro non responsabilità rispetto ai danni subiti dai risparmiatori. Abbiamo voluto rappresentare come sono i fatti, qual è lo stato delle indagini, le reali responsabilità che certamente non vedono coinvolti i direttori e soprattutto anche l'intervento della CONSOB che ha chiarito di fatto ciò che noi avevamo già scritto nelle memorie. Abbiamo apportato qualcosa di importante alle indagini fornendo documenti e fornendo anche delle specificazioni tecniche che sino ad oggi secondo noi erano mancate. Ed è stata sempre la FIRST CISL a sottolineare come i direttori e gli operatori non potevano essere a conoscenza del rischio dei titoli obbligazionari. Esisteva ed esiste un nucleo che è all'interno degli organi di vertice, che è il Comitato Prodotti e il Risk Management, che ha questa funzione che è totalmente sottratta ai direttori. I direttori non potevano conoscere, oltre a non conoscere perché non avevano delle informazioni riservate, né tantomeno gli esiti ispettiti Banca Italia che sono arrivati al dicembre 2013, quindi al termine di tutta questa vicenda, erano a loro conoscibili. Altro argomento toccato e per il quale secondo il sindacato era necessaria una maggior chiarezza è quello riguardanti i MIFID, ossia i questionari che valutano le competenze dell'investitore e soprattutto il rischio che è disposto ad accettare. Abbiamo spiegato intanto che le alterazioni che vengono ricondotte ai direttori spesso non sono state compite dagli stessi e comunque neghiamo che ci possa essere stata qualche alterazione. Abbiamo anche spiegato che i risparmiatori nell'arco del tempo in cui hanno preso visione del loro profilo non hanno mai lamentato alcun che, che molto spesso le MIFID erano sempre analoghe e abbiamo pure spiegato che anche modifiche rispetto al profilo MIFID non avrebbero cambiato la profilatura del cliente.